Disfatta casalinga per le bianco-rosse del CF su Tirol affondate dalla tripletta di un Firenze quart'ultimo in classifica ma molto agguerrito. Le vittorie di misura contro Reggiane e Chiesellis avevano ridato qualche speranza di fuga dalla zona retrocessione. La nuova sconfitta darà ora qualche pensiero in più a Mister Alberti. I primi due gol arrivano al 29esimo e al 41esimo minuto, siglano Crespi e Del Gaudio. E sul 2-0 a vantaggio delle Toscane si chiude la prima frazione di gioco. Il terzo gol arriva a Beffardo però al 95esimo ad opera di Guagni, tre reti frutto di altrettanti brutti errori della difesa altoatesina. Il rammarico del bomber di casa Alessandra Tonelli. Diciamo sì, siamo apparse un po' stanche, comunque i gol sono arrivati su regali, errori nostri. E' mancata un po' di organizzazione in più del solito e abbiamo pagata. Non era adesso che dovevamo salvarci ma dovevamo raccogliere più punti nelle altre partite. Adesso sicuramente proviamo l'intentato ma sarà dura. Fanalino di coda a 15 punti, il Sef Sud Tirol pensa ora alle ultime due partite. La prossima fuori casa con il Mozzani che è in attesa dell'ultima. Grande occasione di salvezza contro l'Orlandia al penultimo posto a parimerito con la Lazio.